Musica Hola a todos io sono Cronox ben ritrovati nel mio canale Oggi siamo su Rainbow e non vi sto saltando questa parte Perché voglio annunciarvi che ho preso un microfono nuovo finalmente E il microfono in questione è il Samson Meteor Quindi un microfono davvero ottimo Mi raccomando voglio sapere nei commenti se l'audio lo sentite migliorato Se sentite delle cose strane Devo dire che non sono esperto nel settaggio dell'audio dei microfoni Quindi non ho fatto chissà quale setting Quindi non ho idea se l'audio si senta al meglio o cose di questo tipo Comunque sono con Twitch Abbiamo trovato i maledetti sono giù Allora voglio un attimo controllare con il drone la situazione qui Bene c'è qualcuno che mi ha distrutto il drone I mortacci su aggiungo Boh io ci provo Ok Arriva da lì No da dove è spuntato questo? Raga mi ha spuntato in faccia dal nulla Eccoci in difesa con l'operatore bandit Il round precedente è finito in modo molto inaspettato Perché mi ha spuntato smoke in faccia dal nulla E quindi non ho avuto nemmeno la possibilità di reagire Allora devo andare a rinforzare io sopra a quanto pare Eccomi qua Devo ancora prendere il ciubbotto Seriamente L'avevo preso in testa ma non mi ha dato la kill Però almeno abbiamo avuto l'assist Eh mi ha rifottuto la kill Ok round 2 vinto Ok eccoci in attacco Stavolta sono con l'operatore Thermite Facciamo sempre attenzione alle spawn kill Che sono una cosa davvero odiosa Ecco vedete Allora Piazziamo una claimer qui Eh che volevi fare? Ok round 3 vinto Eccoci al quarto round Stavolta siamo con l'operatore Jäger Direi di rinforzare E uno Il maledetto mi ha fregato il rinforzo Ma io rinforzo qui Ok Piazziamo L'abilità di Jäger Ne mettiamo una qui Un'altra Qui E un'altra per sicurezza La mettiamo qua Devo anche piazzare il filo spinato Ecco fatto E due Eh voleva il drone di Twitch Attenzione Abilità di Fioz Merda Drone del cazzo No raga Non potevo fare niente Eh vabbè Round 4 perso Siamo giunti al quinto round Sempre con l'operatrice Twitch Allora è un drone qui Che direi di usare Ok c'è Rook Allora una Glamour La piazziamo però Vediamo un po' se riesco ad entrare La tattica dello strisciare Ha funzionato Rimangono 15 secondi Eh ma ci dobbiamo sbrigare qua No No ragazzi Porca miseria Ci abbiamo messo troppo tempo Ok siamo al match point Per gli avversari Ok abbiamo distrutto il drone Eh volevi ripiazzarla Hanno rinunciato ad appropriarsi del contenitore 10 secondi e via Ultimo rinco rimasto Non sono 5 secondi Dai Dai però Nemmeno la kill sono riuscito a fare Ok ragazzi Eccoci di nuovo in attacco Stavolta sono con Sledge Sapete che quando decido di andarci di prepotenza Uso sempre Sledge Ok c'è Rook nella stanza Non posso fare granché Al massimo posso fare una cosa di questo tipo Distruggo Me ne vado Controllo con il drone E se è ancora lì Cerco di buttargli una granata È ancora lì Ok Proviamo a fare sta tecnica Ci provo Ecco qua È andata malissimo Grande Kronox Il bello è che gli esplose in bocca Ma non è morto Assistiamo alla morte di Ash In diretta Ecco qua La cosa divertente La metto tra virgolette È che ieri ho fatto tipo 4-5 partite E ho fatto delle cose assurde Ho un fan che potrebbe testimoniarlo Perché ha giocato insieme a me È ora che sto registrando Con il nuovo microfono D'altronde Sto giocando da far schifo Ok Rieccoci con Bandit Rinforziamo come sempre Grazie Molto gentile Questa è la seconda volta Che mi fotti il rinforzo Ok Arrivano anche da lì Siamo a 15 secondi Deve non rascare Stammi bene Twitch Ok Signori Siamo giunti Al round finale Ho un drone nelle vicinanze Quindi Devo un attimo controllare Ragazzi Forse posso approfittarne Per lasciare Sento passi ovunque Dai vado anche io a destra 4 contro 2 Ok Manca l'ultimo Che non so dove sia Eccolo Perfetto Dai Almeno nel round finale Ho fatto 2 kill E abbiamo anche vinto Purtroppo le mie prestazioni In questa partita Non sono state Proprio eccezionali Infatti ho fatto 5 kill 3 assist E 4 morti Però L'importante è che siamo andati In positivo E che soprattutto Abbiamo vinto Ci mancano solo due partite Per vedere A che rank Rainbow ci metterà Ma in teoria Ne ho vinte abbastanza Quindi dovrei andare Almeno in oro E niente ragazzi Spero che questa partita Vi sia piaciuta Quindi vi invito A lasciare tantissimi like Non dimenticatevi di dirmi Nei commenti Se sentite un miglioramento Nell'ambito della mia voce Perché come vi ho detto Ho cambiato microfono Ho preso il samson meteor E se per caso Sapete delle configurazioni Per rendere il microfono Più performante Mi raccomando Ditemelo In più Se non siete ancora iscritti Iscrivetevi Condividete il video Con i vostri amici E seguitemi Sui vari social network Che trovate in descrizione Che sono facebook Instagram E snapchat E noi Ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao